eccoci siamo tornati siamo tornati chi io sono tornata aspetto anche voi forza oggi giovedì siamo quasi al weekend e per fortuna è tornato il sole come avevo anticipato oggi parliamo infatti di mete turistiche una fra tutte una delle migliori a mio avviso che ho avuto la possibilità sin da piccola di viaggiare tanto e si parleremo di africa parleremo di africa del di come stanno vivendo in questo momento ma anche di tutto il lato turistico che ci aspetta una volta usciti di qua allora dai su forza gnocchi giovedì gnocchi esatto ciao adam grazie per aver commentato in quanto ripeto giornalmente che purtroppo io non vedo chi è presente ma soltanto attraverso i vostri commenti io vi posso rispondere rispondere e vedere chi è presente allora sì mamma africa esatto parleremo parleremo anche di questo ciao manfredi che bello allora su 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 è una è una puntata importante anche oggi anche oggi ciao john john di lorenzo questo nome come come va detto jean il tipo billy jean di michael jackson o john allora allora forza aspetto aspetto dai 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 aspetto i miei followers intanto vi ricordo di mettere mi piace ai canali youtube alla mia pagina finché possiate vedere sempre quello che metto di cui parliamo per dare i contributi potete anche voi dare jean alla francese ok potete eh mandarmi tutti i messaggi che tra l'altro io vi ringrazio che continuate a a scrivermi a tifare per me e apprezzare il progetto che che sto portando avanti anzi vi ricordo siccome la settimana prossima dovrebbe essere l'ultima in quanto cade in concomitanza con la nostra riapertura qualora voi abbiate delle idee da da propormi vi ascolto e vediamo dove posso arrivare con le interviste va bene allora allora io entrerei ciao luigi sì sì c'è 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 mario c'è mario ciao salbachia ciao allora allora diciamo che abbiamo già qualche fans che ci ascolta ma io aspetto mi aspetto allora io inizierei subito presentate che insomma eh sono tantissimi tantissimi anni che eh lavora ho qualcosa della Marcuzzi ok spero spero i soldi ma non è così ehm e eh è anche responsabile del turismo senior Italia Federanziani e creatore di turismo senza età per questo oggi andremo a parlare sì di turismo ma anche dell'importanza che hanno gli anziani anche all'interno di questo eh di di per quanto riguarda il appunto il turismo in che modo eh è possibile eh farli viaggiare in sicurezza e come stanno vivendo in questo momento quindi eh io lascio la parola a Mario che vi presento con grandissimo piacere buonasera a tutti 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 bene 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 allora in casa come tutti quanti eh qui in questi soggiorni coatti eh lo so ahimè purtroppo è così allora allora Mario intanto grazie mille per aver accettato questa intervista eh parliamo di qualcosa di molto delicato a mio avviso non soltanto perché parliamo di turismo in quanto è una è un campo di purtroppo che è uno dei primi che ha sofferto di questa quarantena più che sofferto è proprio deceduto è tutto fermo completamente la cosa è molto è molto preoccupante anche per per la ripartenenza di questo settore perché noi pensiamo sempre alle crociere agli aerei ai grandi alberghi eccetera ma voi pensate a tutta quella micro impresa che vive da giugno a settembre i piccoli chioschi i ristorantini sulle spiagge i ristorantini in collina in montagna sui laghetti chi fa gli affitti vacanze e tutte queste attività stagionali da quello che vende i cocomeri a quello che vende i piccoli prodotti artigianali questi hanno smesso di lavorare ai primi di ottobre che è stato fortunato che a metà settembre del 2019 se non partono riprenderanno a lavorare a maggio del 2021 cioè staranno 18 mesi senza lavorare e questo è veramente una tragedia che tutti noi dobbiamo farci carico e far ripartire questa macchina lenta in sicurezza in tranquillità perché la gente non può farsi le vacanze con la preoccupazione di stare male però dobbiamo metterci tutti insieme questa volta a fare corpo non avere più concorrenza fra di noi ma essere tutti uniti per un unico progetto giustissimo allora a proposito di progetto parlaci subito della tua di te del turismo senza età allora io da sempre faccio il tour operator quindi da non parlo anche più di quanti anni faccio il tour operator molti anni fa mi chiedono di fare un gruppo di anziani parecchi quasi un centinaio che vogliono andare in Kenya io dico mamma mia 100 anziani in Kenya come si va così e facciamo questa meravigliosa cosa e conosco il presidente dell'allora Federanziani che è l'attuale presidente però ha cambiato il nome da Federanziani a signor Italia Federanziani che si chiama Roberto Messina allora tutto preoccupato io da grande tour operator no arrivano tutti questi anziani giù chissà poveracci 70 anni 75 come facciamo l'Africa e fatti cose eccetera morale della favola ho mandato giù i miei assistenti c'ero pure io ci hanno massacrato tutti i giorni si alzavano andavano al mare facevano i safari e la sera verso le 9 che eravamo cotti volevano ballare fino a mezzanotte cioè una cosa al di sopra delle mie aspettative e quindi mi sono avvicinato molto a questo mondo mi è piaciuto perché poi attraverso il presidente Roberto Messina mi ha fatto conoscere la realtà le attività fatti con gli anziani eccetera abbiamo deciso di fare turismo senza età cioè il turismo anche per gli anziani perché signor Italia Federanziani lavora nella sanità e il suo principale scopo è quello di fare prevenzione cioè fare la prevenzione verso gli anziani la prevenzione per vivere bene voi pensate che una delle principali cause di malattia degli anziani per esempio è la non aderenza alla terapia cioè quando uno sta un po' bene magari si dimentica di prendere i farmaci e questo non fa stare bene alle persone allora uno dei farmaci per far stare bene gli anziani è anche il turismo in quanto con la medicina posso curare il cuore, il fegato, il polmone l'ipertensione, il diabete, qualunque cosa ma non posso curare la solitudine, la depressione, sentirsi isolati non sentirsi più importanti nella società e questa è una grossa problematica con il turismo noi facciamo sociale cioè sdoganiamo gli anziani quando vanno in vacanza quindi non li ghettizziamo nel viaggiare, giocare a carte eccetera ma li facciamo incontrare con l'autorità del posto con i bambini, con le scuole che girano, ballano e tutto quanto quindi quello è il mio junior che non è possibile controllarlo quindi va e viene e fa come gli fa e pertanto il turismo finanziario c'è sempre stato però nasce questo progetto di fare un turismo sostenibile un turismo diciamo così cosciente sulle problematiche dell'anziano di tenerlo integrato, di farlo vivere la società e di farlo sentire importante a tal luopo se andate su internet lo vedete ancora su youtube c'è un video fatto da signor Italia chiamato se non ci fossero i nonni voi basta scrivere su youtube se non ci fossero i nonni e parte questo video poiché quando uno diventa anziano in Italia c'è l'idea ormai sei anziano e la pensione mettiti da parte tanto sei un peso per la società se non ci fossero i nonni fanno vedere quanta economia in soldoni le persone anziane anche gli over 70 danno all'Italia vi faccio un esempio parte il video e si vede un anziano fuori dalla scuola che prende il nipote quindi immaginate questo lavoro di tutti gli anziani che ormai sono tantissimi che portano i nipoti a scuola e li vanno a prendere quindi permettono ai genitori di poter lavorare senza problemi questo è un grande valore economico e come no? poi parte una seconda videata e si vede il nonnetto che va al banco ma ti ritira dei soldi prende il carrello va nel supermercato e nel supermercato che cosa fa? compra il pannolino compra l'omogenizzato compra i biscottini per i nipotini e quindi questo è un altro sostegno non indifferente a tutte le famiglie poi si vede un anziano invece non più tanto sufficiente seduto su una panchina assistito ad una badante quindi immaginate il lavoro che danno alle badanti quindi nuovo diciamo nuovo sostegno economico a tutto quanto e alla fine hanno ripreso i miei senior che vanno in aeroporto e partono ma quello della partenza in aeroporto è giusto una questione diciamo di immagine voi considerate che da giugno a settembre tutto l'Adriatico all'80% ci sono i gruppi degli anziani e sono miliardi di fatturato quindi il sostegno degli over 65 al PIR italiano è enorme considerate che e qua poi mi taccio che gli over 65 in Italia sono 23 milioni e pensate un'altra cosa che diciamo l'aspettativa di vita italiana è molto alta voi non vedete più sugli articoli di giornale ha compiuto 100 anni Rossi Giovanni non lo vedete più sapete perché perché sono più di 50 mila gli centenari in Italia quindi noi abbiamo una vita molto lunga la longevità fa parte della nostra vita quindi vivere bene e stare bene in salute negli over 65 è fondamentale ed è una risorsa per il nostro paese basta ecco mi chiudo veramente bellissimo io purtroppo ho perso chiudo la porta ecco io purtroppo ho perso i miei nonni e comunque anche loro sono stati molto longevi li ho persi perché avevano 90 anni e mi ricordo di un viaggio incredibile con loro con mia nonna andai in Egitto e mia nonna era anzianissima quindi vedere l'Egitto vedere la sfinge mi ricordo i suoi i suoi occhi in quel momento 80 anni fu è una fotografia che non mi dimenticherò mai veramente dicono i vecchi proverbi specie specie che hanno sempre un grosso fondo di verità dicono che quando muore una persona anziana è come se bruciasse una libreria perché questo è e voi considerate perché io amo l'Africa nera e amo il Kenya e perché in Kenya ancora oggi portiamo tantissimi noi facciamo i viaggi dell'amicizia con gli anziani e addirittura da ottobre a marzo con 1400 euro facciamo un mese intero in Kenya un mese intero proprio per farli svernare laggiù ma perché c'è questa grossa piacevolezza di andare lì perché in Africa ma penso anche in altri paesi dell'Asia così in paesi del terzo mondo diventare anziani è un privilegio non è come da noi che abbiamo una sanità che ci permette che se ci viene mezzo infarto comunque ci salvano la vita e con i farmaci andiamo avanti per anni e anni e anni ancora pertanto chi diventa anziano è un privilegio e chi è anziano è ai capelli bianchi e alle rughe e osannato e venerato dalla gioventù non è come qui che sta seduto sulla panchina del parco a fare le parole incrociate oppure giocare a scopone con gli altri suoi coetanei lì fanno a gara a stare vicino a una persona anziana a parlargli a sentire la sua esperienza a stare con loro eccetera quindi immaginate quando i nostri vecchietti si sono trovati a contatto con la gioventù che non vedeva loro di stare con loro non gli sembrava vero non gli sembrava vero e poi si è capito il motivo e questo è anche uno dei motivi per cui c'è tanta considerate che a Malindi al di là del clima del tempo dei soldi così vivono più di 3500 over 70 vivono eh non che vanno in vacanza che hanno deciso di trasferirsi e vivere là sì 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 e questo eh sì è commovente veramente questa cosa eh è diverso anche il modo in cui purtroppo a volte trattiamo gli anziani qua rispetto a a posti come l'Africa come hai detto giustamente tu e a proposito di questo io quindi ti voglio chiedere di raccontarci ehm com'è nato eh com'è nata l'idea eh e soprattutto che cosa fanno i tuoi anziani scusami dico i tuoi anziani sì 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 quando vanno in Africa allora intanto è una vacanza di piacere ovviamente quindi si va giù per stare bene mangiare godersi l'ossigenazione perché quando io parlo parlo dell'Africa parlo del Kenya eh il Kenya insieme alla Tanzania e l'Uganda stanno in un triangolo del mondo diciamo così baciato dal clima che cosa vuol dire questo eh le grandi catene montuose cioè il Kilimanjaro il monte Kenya che stanno a nord di questi paesi che sono alti 6.000 metri quindi insomma noi parliamo di colline eh lì nascono i monsoni nascono i monsoni che poi entrano sul nell'oceano indiano si gonfiano col calore del mare e diventano queste piogge questi venti terribili in Asia infatti in Africa a limite piove ma non arrivano mai questi venti o i tornadi infatti se voi vedete l'architettura africana sono queste questi tetti no immacuti che sono delle foglie di palma che stanno lì e queste catene montuose questi alti piani danno un'ossigenazione dell'aria incredibile come si arriva all'equatore e si scende si va in Kenya grazie al verde alla natura e a questi alti piani ci sembra che prendiamo un'iniezione di vitamina cioè stiamo bene al di là che stiamo bene ma stiamo ancora più bene cioè uno lo sente solamente di solito uno io sono un ex fumatore no si diceva ti accorgi che quanto ti fanno male le sigarette quando smetti di fumare perché quando fai le scale non hai più il fiatone no oppure quando fai una corsa non ti devi fermare ecco ti accorgi quando arrivi in Kenya che che respiri cioè respiri aria buona respiri aria ossigenata e te ne accorgi perché stai benissimo e questo è la prima è la prima cosa ovviamente frutta verdura pollo pesce eccetera non esistono diciamo allevamenti di tipo intensivo queste cose qua per cui il mangiare è a chilometro zero ed è ottimo ed è salubre e poi torna a ripetere la popolazione il mal d'africa è la popolazione gente che quando cammini ti sorridono ti salutano anche se non ti conoscono guai a te se chiedi un'informazione perché se tu dici scusi io dovrei andare là ti accompagnano capisci non è che ti dicono dove sta ti accompagnano quindi questa forma nei mercati cioè questa questi questi occhi così belli questa questa voglia di stare vicino beh per noi occidentali che siamo pieni di agi ma siamo sempre più soli credo anche tutti noi le nostre amicizie le possiamo contare su le amicizie voglio dire quelle che ti frequenti le possiamo contare sull'eggista di una mano poi ne possiamo avere anche 6.000 su facebook per dire però la frequentazione è un'altra cosa io mi ricorderò sempre lo dico sempre come battuta come aneddoto ma è simpatico nel fine anni 80 quando diciamo in Italia gli anni 80 quando io sono sceso in Kenya allora ero direttore commerciale di un grosso tour operator che avevamo in gestione un grande villaggio a Malindi e lì c'era l'autista che mi portava su e giù arrivavo io ero il direttore e mi andavo su e giù con l'autista a un certo punto questo mi fa ma senti parlava bene italiano ma come vivete voi a Roma no cioè le vostre case così allora io gli ho raccontato ci sono i palazzi con gli appartamenti e quante persone vivono ci sono anche case che hanno 20 famiglie 30 famiglie a Malindi mi fa e tu tutte le mattine quanto tempo ci metti a salutarli tutti prima di andare a lavorare io gli faccio come salutarli tutti io esco vado a lavorare cioè tu vivi con 20 famiglie esci e non saluti nessuno ma che vita fate capisci quindi proprio un modello culturale completamente diverso e che quando lo incontri ancora oggi fa piacere insomma parlo ovviamente di chi vive nel mondo rurale le grandi città le grandi capitali con le bidonville con le cose è un altro è un altro modello lì si vive in maniera diversa ma quando si sta sulla costa dove ci sono i villaggi dove ci sono ancora la foresta e il busce la vita è ancora questa è lì il vero Maltafrica è verissimo i bambini ma chiunque quando vai in Africa ti rendi conto di quanto loro e io non vorrei scadere nel cliché però purtroppo è vero nel senso tu incontri questa cultura che vive di niente e hanno una forza e ha una forza un costante sorriso che ti colpisce al cuore e quando torni a casa cioè hai veramente il mal d'Africa è vero? poi c'è anche un altro fatto noi comunque viviamo sempre con le ansie del futuro no? cioè a 20 anni cosa faremo a 30 a 30 cosa faremo a 40 a 80 chissà se a 90 cosa faremo eccetera nel modello culturale chiamiamolo così tribale lì esiste la famiglia la famiglia che poi diventa anche un villaggio formato da gli uomini che sono fratelli cugini eccetera le donne e i bambini tutti gli uomini stanno insieme tutte le donne stanno insieme tutti i bambini stanno insieme vivono in questi grandi villaggi se muore cioè per i bambini tutti gli uomini li chiama papà e tutte le donne le chiama mamma non è che c'è poi c'è il papà e la mamma diciamo quelli sanguigni ma tutti sono papà e tutti sono mamma e se dovesse morire come succede spesso la mamma o il papà non c'è questa tragedia perché comunque il villaggio ha tante mamme e tante papà e se uno perde il lavoro se uno diventa anziano e quindi non va più a lavorare non è che lì c'è la pensione le cose però sta all'interno di questa grande famiglia e vive lì se anche uno è giovane l'hanno mandato via infatti negli alberghi magari dice uno fai così così allora vai via quello va via non è che ha questa grande tristezza che ha perso il lavoro dice me ne torno nel villaggio sto lì mangio quindi non c'è questa paura del futuro vivono molto il presente quindi sono modelli culturali che per questo io dico che viaggiare è vivere due volte perché viaggiare vuol dire mettersi in contatto con dei modelli culturali dove quello che per noi è giusto magari per loro non è giusto e viceversa e tu cominci a pensare a riflettere su quali sono i veri valori della vita ecco perché io dico tutti noi dovremmo viaggiare ma non è che dobbiamo viaggiare in 5 stelle lusse basta che andiamo a contatto con chi vive in altri in altri mondi e ci confrontiamo i nostri i nostri modelli culturali verissimo allora scusami Mario intanto voglio salutare tutti quanti che sono connessi c'è molta gente vi invito sempre a fare domande a commentare così io posso anche ripetere le domande a Mario e ti fanno molti complimenti adesso a leggere tutti avrai difficoltà quindi grazie ti volevo chiedere a proposito di questo avete creato in Africa insieme ai nonni diciamo un progetto di solidarietà sì allora noi non siamo una onlus quindi non ci siamo messi a raccogliere soldi abbiamo detto facciamo dei progetti allora nonostante che ci siano grandi foreste grandi corsi d'acqua non esistono nei villaggi gli acquedotti e quindi ci fanno i pozzi e le donne e i bambini sono quelli che vanno a prendere l'acqua perché l'acqua nel villaggio vuol dire lavare i panni e cucinare quindi c'è sempre bisogno di acqua allora si vedono questi bambini queste donne che sono loro due che vanno a prendere l'acqua a camminare e fare chilometri per andare ai pozzi e prendere l'acqua allora creare un pozzo all'interno di una comunità di 500 600 persone vuol dire farli vivere bene un pozzo costa circa 3000 euro fare un pozzo quindi le cifre sono molto sono molto modeste e quindi noi abbiamo detto facendo i viaggi dell'amicizia una quota di questo viaggio che sono 50 euro vengono spesi direttamente sul posto per esempio fare i pozzi e quindi abbiamo iniziato a fare dei pozzi d'acqua dove c'è stata messa la targa e così via poi alla fine abbiamo visto alcuni villaggi i bambini che andavano a scuola e non avevano lì le scuole funzionano così devi pagare un'iscrizione nell'iscrizione ci sono i soldi per gli insegnanti per poi devi avere la divisa e devi avere i quaderni e le matite che sembra una stupidaggine ma chi ha 6-7 figli e non guadagna sono soldi allora con 50 euro si manda a scuola un bambino per un intero anno e voi capite che in un pacchetto da 1200 euro 1300 euro 50 euro e quindi nei viaggi dell'amicizia poi si andava con questi soldi si andava si vanno a comprare i quaderni le pene si vanno a dare non è che i soldi vanno in un'organizzazione che dice poi li faremo compreremo e faremo quindi proprio chi porta questi soldi che glieli prendo io però glieli metto in mano e si trasformano in prodotti e vengono dati da qui un paio di presidenti dei centri anziani che hanno più di 1000 iscritti hanno detto allora noi vogliamo fare una raccolta perché vogliamo anche fare le aule perché c'era una zona all'interno della foresta dove i bambini avevano un'aula sola quindi erano seduti per terra scrivevano uno seduto sulla schiena dell'altro e così via e da lì è nata l'idea ed è nata la città dei nonni perché abbiamo cominciato a fare un'aula poi una seconda aula poi un campo da pallone poi la mensa poi le cose e quindi c'è questa città dei nonni che fa parte della visita quando noi facciamo i viaggi dell'amicizia capito? bellissimo e questo è proprio perché noi non facciamo una raccolta di fondi e li mandiamo giù noi facciamo dei progetti poi con i viaggi stessi facciamo in maniera che gli stessi diciamo fruitori dell'obolo nel caso magari in questo caso qui delle aule i presidenti dei centri eziani hanno raccolto i soldi si è retenuti il capogruppo che quando è andato giù l'ha trasformati e l'ha dati al costruttore che sta facendo le aule capisci? ed è ancora adesso questa è un'operazione che rimane ormai fissa perché noi continuiamo poi a farle queste cose fantastico e andiamo là il progetto che vai a finanziare tra virgolette ogni viaggio che noi facciamo dell'amicizia che poi noi chiamiamo viaggio dell'amicizia perché è l'amicizia con loro ma in realtà è sempre un viaggio di vacanza non pensate di oggi di vacanza all'interno del viaggio c'è la visita alla città di nonni c'è l'incontro con queste comunità con gli anziani del villaggio quindi è una cosa molto bella che potrebbe anche essere al di là di dare i soldi perché fa parte proprio della vita della costa ci chiedono il periodo migliore per andare in Kenya allora il periodo intanto bisogna sfatare una cosa sul Kenya voi considerate è come chiedere a me come se andare da un oste e dire ma il tuo vino è buono no cioè all'oste non si chiede se il vino è buono allora per me il Kenya è fare safari per l'intero mondo che va in Kenya è andare al mare quindi diciamo che c'è questa forbice di cose allora se uno vuole andare al mare sulle spiagge bianche sulla bella corredalina il periodo migliore va da dicembre a marzo perché perché da dicembre a marzo è il periodo secco siamo all'equatore quindi all'equatore la distanza dal sole è la stessa quindi la temperatura non varia molto durante l'anno però si cambia tra l'umido e il secco il secco è quando non piove mai e quindi da dicembre a marzo e poi qui fa freddo quindi figuriamoci l'altra stagione dell'Africa e si va male per chi ama fare i safari e quindi andare a vedere gli animali che pascono cioè ci sono tutto l'anno quando si va da dicembre a marzo che è la maggioranza degli turisti gli animali si muovono all'alba e al tramonto perché fa caldo e durante il giorno quando si va con le jeep così si vedono figuriamoci si fotografano ma stanno tranquilli fermi magari all'ombra di una caccia di un baoba stanno lì quando invece da agosto a dicembre è il periodo delle piccole piogge è tutto verde e gli animali pascolano e si muovono tutto il giorno allora fare un safari in quel periodo è l'ideale poi è chiaro quando si va sulla costa si può rischiare su sette giorni di prendere un giorno di pioggia ma un giorno su sette noi parliamo di sette giorni il periodo peggiore va da aprile a luglio che è l'inverno dell'Africa perché è il periodo dei monsoni e quindi piove parecchio e quindi è molto umido è molto umido e il turismo si può fare tutto l'anno però diciamo il mare da dicembre a marzo i safari da agosto a marzo con agosto settembre ottobre che è il periodo più bello addirittura a settembre in Kenya c'è la grande migrazione quella che si vede nei documentari milioni di gnocchi attraverso un piume maraco i concodrilli le cose questo è il mese di settembre si chiama la grande migrazione fare un safari allora io ho girato tutto il mondo chi mi conosce lo sa ho fatto tutti i continenti c'è sempre un problema nel lungo raggio l'aspettativa cioè tu vai in polinese è un'aspettativa arrivi lì e di solito la tua fantasia è superiore alla realtà quindi quando arrivi sei in un posto meraviglioso ma magari come aspettativa se l'avevi un po' più superiore bene io faccio questa scommessa con tutti i miei clienti se fate un safari io pertanto che ve lo posso descrivere non sarà mai come l'emozione quando siete lì cioè l'aspettativa dei vostri sogni di fare un safari sarà sempre inferiore alla realtà ed è l'unico l'unico viaggio che l'aspettativa è al di sotto cioè al di sopra della vostra fantasia è fare un safari che poi sia in Tanzania in Botswana in Sudafrica non è un problema è vero commentano dicono è vero è vero grazie a proposito di questo Mario tu quindi l'Africa l'hai sposata in tutti i sensi perché tua moglie è africana ed è un giornalista sì che continua a lavorare e quindi magari anche grazie a lei abbiamo delle notizie se vuoi riportare riguardo il coronavirus in questo momento sì allora mia moglie è una giornalista e quando l'ho conosciuta lei lavorava per Ghetto Radio a Nairobi che è una radio olandese dove al di là di fare intrattenimento eccetera era anche molto vicina al discorso sulla diciamo così sulla violenza in generale in Africa e quindi sui diritti sui diritti degli uomini e delle donne e i crimini contro l'umanità queste sono le cose che si è occupato poi avete visto quel ragnetto che è entrato e uscito così abbiamo avuto questo incidente cinque anni fa e quindi abbiamo questo piccoletto e lei da buona mamma l'ha seguito e quindi vive con me in Italia ci siamo sposati eccetera però comunque ha sempre questo cordone umbilicale con il che ultimamente ha fatto anche dei reportage sul coronavirus in Italia che le hanno pubblicati sulla migliore testata che c'è a Nairobi oggi la situazione del coronavirus in Kenya è controllata i casi sono veramente pochi sono circa 200 però voi sapete che la sanità in Africa non è come quella che c'è in Europa per cui si ha molta preoccupazione che possa diventare un'epidemia o una pandemia pertanto le contee perché il Kenya è fatta di contee quindi le contee sono chiuse non si può passare come da noi le regioni come dalla Lombardia non si può andare in Veneto e così via quindi hanno chiuso le contee i casi sono tutti a Nairobi e a Mombasa la contea che sono le grandi capitali africane c'è il coprifuoco dalle 19 alle 5 dalle 19 di sera alle 5 del mattino c'è il coprifuoco cioè non si può girare non è che uno può camminare per necessità non si può girare ecco e le mascherine sono distribuite gratuitamente alla popolazione come sono distribuite non è che lo Stato si è messo a comprare mascherine ci sono tutti questi piccoli artigiani a te ti ho anche mandato delle fotografie che prendono i tessuti quelli africani con tutti i colori così li cucciano e fanno le mascherine e tutti incidono con la mascherina ma tanti se li fanno a casa loro perché stiamo parlando di una di una popolazione che sanno anche molto cos'è la manualità dentro casa e quindi vivono così chi chi cammina senza mascherina o chi ha problemi eccetera viene messo in quarantena la quarantena dura 15 giorni e diciamo così non ho ancora capito bene come funziona perché comunque ti mettono in posti come se fossero degli alberghi insomma degli ospedali ecco che però sono a pagamento non è come da noi che sono gratuiti e quindi vieni messo lì in quarantena però in questo momento torno a ripetere i casi sono veramente bassi però l'attenzione è molto alta proprio perché il segno vive di turismo vive di relazioni vive di cose per cui loro ci tengono molto a questo poi ci sono anche gli ospedali molto importanti c'è la GACAN ospita c'è Nairobi ospita c'è gli ospedali molto importanti però ecco la sanità o c'è le assicurazioni che non è come qui ecco per cui in questo momento è così e si vedono i bambini e le donne girare con tutte queste mascherine l'unica cosa di bello è che come tutta l'Africa le mascherine sono pirotecniche quindi sì è vero sono veramente belle speriamo speriamo bene insomma cosa possiamo fare purtroppo da qua dobbiamo solo pensare positivo e che possiamo ripartire a fare le vacanze il prima possibile io spero in maniera diciamo pessimistica a Natale Capodanno in maniera ottimistica già ad agosto perché ho sentito delle interviste anche di Luc Montagnier il premio Nobel per la medicina che è un virologo che diceva essendo manipolato questo coronavirus si sta auto diciamo così distruggendosi da solo e speriamo che abbia ragione e che sia così e che magari fra qualche mese non abbiamo più questo flagello chi lo sa veramente oramai pur di seguire pur di ascoltare delle positive ascoltiamo tutti ecco faccelo vedere faccelo vedere eccolo qui il piccoletto allora io ti saluto però vorrei che insomma ci lasciassi con un con un bel messaggio per quanto riguarda il viaggio beh per come dicevo come dicevo prima viaggiare è un modo per stare bene uno può anche viaggiare e andare sotto casa l'importante è che abbia relazione con le persone ecco la cosa triste di questo coronavirus è che ammazza non solo le vacanze perché non ci mette in contatto pensate i bambini la cosa per i bambini è vivere insieme fare i giochi noi uguale quindi questa è veramente una tragedia per cui io dico chi può viaggi indipendentemente da tutto perché conoscere altri modi di pensare altri modi di vita altri modi di mani mangiare aumenta la nostra esperienza ma soprattutto ci fa crescere ci fa crescere ci fa crescere è vero bellissimo Mario grazie grazie e torneremo presto a viaggiare e verrò verrò in Kenya andiamo in Kenya presto ok vi aspetto ciao arrivederci ciao è bene abbiamo detto un sacco di cose anche oggi molto toccanti divertenti e come dico sempre interessanti vi ricordo sempre di condividere qualora pensiate che possa essere interessante cioè praticamente questo è un dogma lo dico sempre uguale tutti i giorni sono bravissima in questo e vi ringrazio siete stati tantissimi grazie per la vostra attenzione grazie Federica che è la mia fan più attiva sulla pagina grazie a tutti veramente e domani ci vediamo e parliamo della fuga dei cervelli parlando con un medico italiano che ora sta a Berlino e insomma di cose ne avrà da dire quindi grazie ancora a domani grazie a tutti grazie a tutti